Anche quest'estate, sebbene sia scartamento ridotto causa Covid, non ha visto nascere la via verde della costa dei Trabocchi, con l'apertura ufficiale della pista ciclopedonale affacciata sul mare che va da Francavilla al mare a San Salvo posticipata al 2021. Un ritardo che preoccupa gli operatori turistici e commerciali anche alla luce del dibattito emerso tra la provincia di Chieti e l'impresa esecutrice dei lavori, la Cogepri, che vinse l'appalto nel 2017. Chiediamo che si allarghi il tavolo di confronto anche con le rappresentanze dei datori di lavoro, dice in un comunicato da Confessore Centi di Chieti, in quanto parliamo di un'opera importantissima per il turismo dell'intero territorio e di tutta la regione Abruzzo, che già vede un ritardo di due anni rispetto alla tabella di marcia. È stato fatto un gran lavoro di lancio dell'immagine di questa infrastruttura nei mesi scorsi da parte di enti pubblici, tra cui Camera di Commercio, Gal, Regione, la stessa provincia e gli altri enti e associazioni. Prosegue Confessore Centi. L'attesa è tanta e molti turisti, sia l'anno scorso che quest'anno, pensavano di trovare il percorso completo e con tutti i servizi. Non è così purtroppo e non possiamo più ritardare. Chiediamo una soluzione rapida, continua l'associazione di categoria, che porti al completamento dell'opera affinché l'infrastruttura diventi fruibile al più presto per rilanciare le attività turistiche e del commercio già provate dalla pandemia. Tutti gli sforzi devono essere concentrati per consegnare questa importante pista ciclabile, pensata 15 anni fa e per troppo tempo attesa, conclude Confessore Centi, e anche la Regione ha il dovere di intervenire per aiutare a trovare una soluzione rapida e definitiva.